aspirante zurichese aspirante zurichese allora età 26-30 grande città del nord Italia software engineer e finalmente signori una ragazza e allora esistono penso sia la prima se non ricordo male esistono qualcuno poi mi aveva chiesto se gli dicevamo le percentuali di pubblico femminile dei nostri canali nella mia zero zero io no non ho zero quando faccio i video sui buoni footify postali troppo zero sarà 3% mi spiace ma stiamo messi qua ok allora quello che ci dice la casa in cui vivo è di proprietà del partner e in più ha una casa che possiede come investimento con un mutuo a 300 euro al mese net worth 131k meno 53 di mutuo quindi 78 sostanzialmente asset allocation 90% azionario 10% altro casa bond cavalli di corsa carte dei pokemon tutto ma non crypto ci tiene a sottolineare per la pensione contribuisce al fondo di pensione di categoria e come obiettivi trasferirsi in Svizzera e financial dependence italiana il prima possibile tutti così diciamo poi dopo alla fine non te ne vai più via da qua alla fine ti abitui ci si rimane al benessere Svizzera esatto vogliamo vedere i file? sì questa è una presentazione allora ci saluta ciao a tutti ho 29 anni vivo in una città di Nord Italia software engineer per 40k più 5 di bonus aziendale ovviamente all'anno lordi ha 5 anni di esperienza nel settore quindi comunque una discreta RAL per l'Italia complimenti e ho messo da parte 78 in questi 5 anni non tantissimi ma neanche pochi sottoscrivo il commento convivo nell'appartamento di proprietà del mio partner per il quale non paghiamo nessun mutuo a nessun figlio e nessuna intenzione di farne perfetto la mossa molto intelligente non lo so scusate non so che sta succedendo oggi ho la rete che va giù e su sono andato offline un'altra volta vabbè ah non mi ero accorto meno male ero concentrato ok ho comprato la mossa dicevo intelligente che ha fatto secondo me è che ha comprato a sua volta un appartamento che dà in affitto per 500 euro al mese lordi e paga un mutuo molto basso ha un tasso fisso di ben l'uno e mezzo per cento quindi diciamo avendo l'opportunità di vivere dal partner non ha non si è diciamo spesa tutto in cose ma ha investito in una casa con un ottimo mutuo le spese sono basse 1200 euro al mese non ha problemi a risparmiare più o meno in tutte le categorie tranne che per viaggi e libri ok comunque spese bassissime l'obiettivo è trasferirmi in Svizzera che non è legato solo a vantaggi economici ma anche allo stile di vita vivere fuori città e muovermi solo con i treni e mezzi pubblici per andare al lavoro il che effettivamente è un po' cozza poi col fatto voglio tornare in Italia financial independence eh sì poi ci sarà lo shock culturale occhio esatto e ci chiede le stime che ho fatto nello spread ti sono plausibili? e questo poi cercheremo di ups ho cancellato cercheremo poi di di rispondere e fai il prima possibile ma senza retarderli ah quindi non voglio smettere di lavorare ma avere la libertà di fare quello che voglio senza preoccupazioni economiche ok e di conseguenza la soglia per il fa e fai per la financial independence la considero italiana perché potrei voler tornare in Italia una volta che sono e fai ok quindi non è che voglia proprio accumulare abbastanza per poi tornare subito in Italia ma avere soltanto la possibilità comprare casa per dove vivere in un posto molto economico tipo qualche paesino speduto nelle Alpi ok vendere il bilocale affittato appena passano 5 anni dall'acquisto va bene quindi qual è il motivo per cui ha comprato solo per rivenderlo presto affittarlo pagare interesse sul mutuo non so qual è il motivo di questa operazione immobiliare allora vendere il bilocale affittato appena passano 5 anni dall'acquisto per non perdere la situazione fisica sulla prima casa quindi ha la residenza quindi l'ha comprato già con questa sia la residenza tutta la casa che affitta diciamo già ha comprato con l'intenzione di rivendere dopo 5 anni è stata un'operazione speculativa lo so interessante ok investimenti faccio un pack azionario a cdc c'erano proprio ogni mese solo quando mi ricordo a cazzo de cane a cazzo de cane ma cos'è cdc crypto.com cazzo de cane cazzo de cane ah davvero? temo di sì ah è un'appropiazione ufficiale ok è genuinamente a cazzo de cane ok i bond non sa neanche cosa sono si è dimenticata che esistano vuole solo investimenti passivi meno etf possibili numericamente penso numericamente meno etf possibili ok ne ho più di noi solo perché volevo fare una combo diversificata di etf e esg ok quindi che sono gli etf diciamo compliant dal punto di vista ambientale eccetera eccetera usa de giro solo etf gratis su de giro ok che non sono più gli etf e co sono tutti esg per me è un attributo non negoziabile è ok per me perdere il possibile premium degli investimenti in aziende che restano fuori dalla categoria esg al fine di allinearmi i miei valori sui temi ambientali non so qual è la vostra opinione ragazzi sull'esg alla fine tutte le compagnie con un po' di greenwashing ci rientrano per cui ci trovi anche quelli che fanno bombe nucleari su gattini quindi boh non so quanto sia se ti fa star bene sentirti allineata ai valori esg ma dentro se vedi l'enco delle aziende ci trovi tutte non lo so io non mi scrivo lo scrive sotto lo scrive sotto o ne è conscio conscia ah si ne è conscia lo scrive sotto so che l'etichetta esg di per sé non è di per sé 100% affidabile che le aziende che ci stanno dentro inquinano eccetera eccetera è solo il modo meno peggio che ho a disposizione per investire secondo i miei principi non penso abbia senso guagnare il più possibile oggi per fare più beneficenza domani ok si non è che stai risolvendo i problemi del mondo investendo in esg però ti fa star bene fallo non penso ci sia anche neanche niente di male non è che si sta perdendo diversificazione sì ci saranno forse ormai saranno un 5% di aziende che non rientrano nei parametri esg non so poi vediamo anche il term of s&p500 not esg the number of companies reporting esg information in cui si dà 93 a 99% dell'esg 500 queste sono quelle che fanno reporting esg information sono quelle che sono classifiche quelle che ti dicono le cose ok ok ecco quelle publish reports sì why tesla was kicked out tesla comunque non è esg tesla cacciata brutalmente esg ok non lo so potremmo vedere quanta percentuale aziende non ci sia stato questo s&p.net esg saranno le top 500 esg o le esg dentro le top 500 ecco qua l'informazione potrebbe essere utile 321 aziende su 500 quindi il 60% di aziende stanno qua dentro pensavo di più pensavo di più il 60% parliamo solo dell'america magari il resto del mondo è più alta perché le aziende europee sono un po' più esg friendly però in america su 503 costituenti dell's&p.500 circa il 60 64% è esg ok quindi il filtraggio c'è c'è un filtraggio scusa ok va bene note lo spread ci considera solo le mie spese i miei grandi personali non quelle del nucleo familiare il valore riportato per l'appartamento è puramente inventato considero i versamenti nel mio fondo pensione come ingressi e il valore netto lo calcolo tassandolo con la tassazione massima possibile ok poi vediamo di che si tratta le cifre sullo spreadsheet sono tutte hardcoded copiate dal mio spreadsheet personale ok vuol dire che lei fa una contabilità magari molto dettagliata ma non ha voluto ricopiare tutto quanto per cui lo daremo bello quando sento un software engineer che fa le cose è bello è pulito mi sta piacendo tantissimo la presentazione soldi allora etf abbiamo un xtrackers msi world esg tutto esg fantastico la fa da da padrone in questa categoria il secondo è un emerging market imi esg ok non ha trovato un acel world quindi si è sovraesposta emerging market sovraesposta europa quindi small cap ma quindi ha deciso di sottopesare sia l'america che tutta l'area pacific per qualche motivo ok guardo rapidamente i terri per il primo uno 0,20 il secondo uno 0,18 diciamo questo qui 0,20 msi world esg fondo grande 4,5 bilioni fondo grande holding non tantissimo anche l'america per la sud è quella che sta messa meglio come numero di costituenti esg cavolo e poi è un full replication quindi sono tutti quasi in effetti si in tutto il mondo c'è un un indice world a 3.000 eh sì ok vuol dire che nel mondo il 20% sono gli esg vediamo ok pensavo che l'america era quella più forse il world sono tipo 1.800 no sono 1.600 1.600 1.600 ok se cerchiamo SWDA ups SWDA eccolo qui come costituenti ne ha 1.600 1.500 ok 6.500 vabbè 600 su 1.500 scendiamo al al siamo al 40% 40% interesting e SLMC RISE MSCI Europe SG Screen vabbè questo è uno 012 393 abbiamo letto un po' di ticker diversi che non vediamo spesso facciamo un po' delle scelte per chi vuole restare ESG abbiamo scoperto o meglio scoperto oggi che la quantità di aziende non ESG cioè non environmentally social e sustainable non mi ricordo quale è la la G governance 40% no ESG green o governance no me lo so ho tirato a caso ESG governance secondo me governance ok praticamente la governance aziendale che non eh sì ha poco a che fare con sì certo infatti con l'ambiente però fa parte del ok ok fa mani in food rise sustainable future of food è un etf è un etf da 51 holding track riso sembra riso con la z dici rise ah non è ah sono io eccole eccole il secondo l'avevi trovato c'è già il secondo ecco qua sì ok vediamo scusate Foxberry ah no sono io come lo sono segnato 045 riter full replication future of food beyond meat e cose del genere vediamo un po' diversiamoci un attimo con il fact sheet mai visto questa emittente ragazzi mai visto no neanche io prima volta a parte spieghiamogli come si come si fa un fact sheet che è sta roba che è il snake anyway non lo so dove trovo le dove trovo le i top componenti lamb weston john bean technology ok che poi magari salta fuori che lamb john bean e ya sono i pessimi dal punto di vista ISG dai temo sustainable packaging come primo settore che poi è un settore sustainable packaging sustainable future ingredient flavor and fragrance mi fa strano chiamarli settori questa roba qua perché i settori è una classificazione un po' più ufficiale tipo financial technology no è filtrato ESG comunque anche questo ah ok si ma dovrebbero essere temi questi qua vabbè supply chain technology precision farming bello 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 mi piace la la botta di novità che non abbiamo mai visto ok performance molta svizzera ecco per chi dice la svizzera è cattiva guardate guardate quante cose belle facciamo in svizzera performance dove vediamo ecco vabbè non si può essere buoni e anche fare i soldi e guadagnarci mi spiace ma dal covid in poi ha sugato tantissimo si ci hanno creduto per un po' vabbè cazzo ok abbiamo scoperto un nuovo emittente comunque pension fund ok fondo pensione contributo opzionale bla 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 la casa che la valuta 95.000 di cui 53.500 mutuo beh però se ci fa 500 al mese di affitto sono 6.000 l'anno lordi diciamo che è un buon ritorno che diventassero 5.000 netti diventa sì sì un 5 abbondante al 5% di ritorno sulla leva su quello che ha messo lei sui 40k che ha lei di equity è buono come ritorno sì sì per me è stata un'operazione interessante comunque anche se questa cosa vuole venderlo poi non vabbè non è chiaro e income bla bla spese come ci diceva 14.000 nell'anno una media di 1200 al mese piuttosto basso saving rate alta spese considererà anche i pagamenti del mortgage spero di no perché sappiamo che non sono spese sono le categorie lì a lato sì lì a lato home ok c'è home ma no ok no il mortgage non penso che lo stia considerando una spesa come giustamente è o quanto mangiata interessi scherzo no mangerà cose ambientalmente sostenibili magari e quindi viaggia quindi una nitide carbonica che si brucia con i suoi viaggi magari fa slow travel non lo sappiamo peccato non è via in chat sarebbe sulla via qualcuno scrive io DSG ho solo il cane ok ristoranti shopping al mese 1966 sì troppo i regali in effetti ma magari ha partecipato al matrimonio di quelli prima te 1992 Svizzera 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 dovrebbero essere le sue aspettative le aspettative trovare 110k come software ingegnere ragionevole come primo impiego o secondo impiego sì ok di più di più se questo è lordo è un po' di più il netto si immagina che pagherebbe 2002 di affitto a Zurigo ad oggi ci compri un bilocale stretto stretto ci prendi l'affitto health insurance 400 potrebbe anche fare un po' di meno diciamo che può starci in queste cifre può starci in queste cifre 400 cibo ci può stare 300 di ristoranti una volta una volta a settimana una volta al mese solo per se stessa no vabbè se paga solo per se può tranquillamente spendere anche 50 franchi vabbè dai sono ragionevoli cosa mi manca però health insurance ah il nido non paga il nido ok ne scresa magari a un figlio all'improvviso eh addio svizzera quindi se si trasferisse bella questa analisi qua se si trasferisse in svizzera avrebbe un saving rate così non diverso da adesso ma un saving assoluto molto più alto che la porterebbe prima in fire non so se ha fatto dei conti per quando raggiungerebbe l'indipendenza diciamo che mi viene da pensare che partiamo da poca ciccia però quanti anni ha e quant'è che lavora 26 mi sembra ok se ne ha 26 ok no 29 perdono va bene va bene mi sembra che dicesse che lavora già da 5 anni 5 anni di esperienza nel settore ha messo da parte 78k vabbè ha comprato casa ok ha comprato la casa che usa come investimento avrà pagato certo ci mancano 40k qua per cui bello mi piace molto e anche a me è piaciuto quando l'ho letto sinceramente e obiettivi scusate a parte di andare in svizzera obiettivi era fire si financial independence senza retire early obiettivi svizzera e fee fee italiana prima possibile quindi un obiettivo aperto scusa leggo di un partner di là sono indietro il partner è d'accordo ad andare in svizzera ah questo non lo sappiamo vabbè c'ha anche casa il partner eh sì ok vabbè ok non ci ha messo gli investimenti in carte pokemon e cose del genere vabbè giustamente non li considero investimenti cavalli da corsa ma i cavalli da corsa possiede quindi un cavallo possiede una quota di un cavallo da corsa perché un intero cavallo da corsa non so se ci sta un cavallo da corsa frazionato una quota aspettiamo un secondo la parte azionaria saranno 20.000 e è il 90% 11 17 15 17 18 19 19 e 7 fa questo qui quindi che è il 90% di qualcosa quell'altro qualcosa circa 2.000 sì in quindi 2.000 ci sta casa bond cavalli da corsa ma bond ma no perché fa parte dell'asset cioè o hai una scommessa che la giudichi un asset ma quanto tu hai la scommessa beh la rolli hai un biglietto per la corsa di domani appena mentre corro non ne compri un altro non lo so l'avevo messo per cazzeggia per gioco ma poi i bond mi lamento che non ci sono no l'ha detto che non ha 10% ah dov'è che li hai i bond scusa no qui non c'è scritto niente no nel ritmo aveva detto bond non so neanche cosa sono eh ma c'è scritto bond casa bond vabbè la buttata lì insieme ad altre cose sbagliata dopo casa non è più non è più seria sì secondo me ha cazzeggiato dai fa correre il cavallo per produrre energia ok per scrivere non cripto dai ci sta allora penso che parto io altro a cazzote cane ovviamente questa brava brava mi è piaciuta molto la presentazione è ottima è ottima cavolo qui rischiamo rischiamo il podio qua attenzione direi che vabbè cosa manca guido com'è che non vedo la poll sul tuo eccola eccola posso votare anch'io o no come no io prima ho votato da guido non vi dico cosa non vi dico cosa la casa anche del partner ha votato poche informazioni sul partner però giustamente è irrilevante almeno qualche riga sul fatto su quanto è allineato sono allineati gli obiettivi perché se il partner non vuole la sua vita in Svizzera non gli interessa vuole spendere miliardi sono anche sulla mia live hai votato anche sulla tua live no 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 lì non posso perché creavo io il poll oddio ma il polliano no è con un altro account ah è vero è vero posso no vedo che non posso votare wow finora è un bel è una un plebiscito si l'unica cosa mi inquietta vabbè non voglio influenzare i voti aspetto qui ci sta ok ci sono un po' di dubbi ma vabbè li perdoniamo fondo pensione così la colonna pensione dobbiamo ripensarla perché c'è chi la interpreta come raccontaci attualmente com'è la situazione pensionistica e chi la interpreta come quali sono i tuoi obiettivi per la pensione negli obiettivi trasferirmi in Svizzera è un obiettivo perché non è semplicemente prendo attraverso il confine ma è cerco lavoro e mi ci sposto è un obiettivo di vita ovviamente poco finanziario ma è un obiettivo di vita e il fire prima possibile è un obiettivo ragionevolissimo ok wow ragazzi io qui sto per sto sopra il 9 sicuro 9 virgola 9 pure 9 alto questo è un 9,78 è un 9 alto questo qui efficienza asset allocation efficienza asset allocation è tutto ISG è tutto ISG beh ma possiamo vederlo come un suo obiettivo l'ISG secondo me sì 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 certo assolutamente sì assolutamente sì lo voglio giudicare in termini relativi a ciò che si allina con i valori faccio difficoltà a giudicare in termini comparativi questi ETF con altri competitor perché non conosco molto il mondo ISG questo qui fa money non lo giudichiamo neanche eccetera è un po' poca roba da giudicare c'è la parte immobiliare che alla fine ha un buon rendimento la scelta di divisione small cap ha messo un 20% small cap che magari può essere un po' però small cap ISG magari può significare non dico start up ma aziende piccole promettenti nel mondo della sostenibilità può essere anche una scelta conosco poco poi abbiamo Europe molta esposizione emerging market e poca Europe mi verrebbe da dire perché però per il resto è allineato ai suoi valori sa quello che sta facendo non sta pagando nessuno per fare sta roba qui ok gli do gli do un 8,4 aderenza obiettivi il cash flow è molto interessante è aderente agli obiettivi sarebbe da fare una proiezione il piano svizzero è ben dettagliato è tutto quanto incredibilmente accurato come aspettative di salario e di spesa ecco magari forse poteva essere presentato togliamo due decimali qua andiamo a 7,59 perché poteva essere presentato una proiezione fire perché per dire per darti un giudizio migliore potevi scriverci questa è una proiezione penso di raggiungere la financial independence fra 13 anni così ci lascia a noi fare i conti non ci abbiamo voglia ci pesa il culo non lo facciamo mai quindi questo un po' pecca però per il resto è abbastanza lineato il saving rate è quasi del 50% applausi e via io gli do un 8,81 mi sono mi sono aperto mi sono innamorato mi dissocio da me stesso dicono che Houston non è ISG il pignolazzismo ragazzi abbiamo una ragazza teniamocela buona ragazzi vogliamo vedere più ragazzi in questo in questo mondo facciamo i simp ragazzi facciamo un po' di simp ok allora dunque presentazione del caso sì ben fatto ben fatto apprezzatissima la presentazione della Svizzera e forse qualche parolina in più su quella casa che la compra tra 5 anni la vende però potrei sbizzarrirmi con un 9,2 dai dai altre donne altre donne così voglite più cose più SG più più ETF gli emittenti strani allora ha una casa nella set allocation che rende ce l'ha però un po' sul gruppone cioè deve andare in Svizzera quella casa va venduta o c'ha il 5% di yield sul prezzo e sulla parte investita quasi il 10% di rendimento sulla parte investita è un affarone poi cos'è che ha di bello tra gli investimenti no tutto il resto mi sembra messo bene sì sì 9 wow ragazzi qui sta tremando a te sta tremando sta tremando trema trema il primo posto di seppia esatto lo facciamo un posto per scalzare seppia dal primo posto aderenza obiettivi allora cozza però la casa con l'andare in Svizzera ecco qui cozza la casa con l'andare in Svizzera 49 poi cos'è che abbiamo tutto il resto ma dai cozza la casa per andare in Svizzera deve venderla troverà i soliti italiani che non gliela vogliono comprare tirano sul prezzo c'è di peggio nel senso che se vuoi trasferirsi in Svizzera presto purtroppo non può tenere la casa non può tenere la prima residenza lì e tutte le agevolazioni di prima casa o aspetta 5 anni non so quando l'ha comprata se l'ha comprata 4 anni e mezzo fa è un conto se l'ha comprata ieri è un po' sul groppone in effetti sarebbe interessante sapere quando ha comprato casa va 8.5 ok wow wow ragazzi sono emozionato qui siamo su media hai la responsabilità la mia chat è scatenata un sacco di gente lascio votare la mia chat è troppo è troppo influenzabile qui allora intanto prendo i voti dalla mia chat sto per interrompere il poll non so quando finisce io lo interrompo adesso 3 2 1 dice Elia dice che nel 2022 ha comprato la casa l'ha scritto 180 voti 24 25 26 28 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 29 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 e la madonna che pignolazzi no la chat sta distruggendo no no male male cattivi maschilisti su quella di Guido 21 voti e la madonna 76% Guido è tutto nelle due non guardare non puoi guardare la media fino adesso ok non la guardo bene allora presentazione del caso era tutto abbastanza chiaro ho apprezzato che ci ha dato i dati ma alcuni spreadsheet sono non so riportano dati mese per mese di tre anni interi magari divisi per spese ho preferito forse avere questo questo riassunto delle spese l'ho apprezzato gli asset è molto chiaro quello che quello che aveva certo il link just etf poteva metterlo però vabbè comunque ci ha messo il nome commerciale diciamo dell'etf quindi più o meno si capiva cos'era tfr tutto quanto sì mi attesterei anch'io su un su un un 9 e efficienza asset allocation vicenza asset allocation sì diciamo avendo scelto ISG sicuramente ha scelto bene perché comunque hanno dei ter dei ter bassini ci sono delle controparti non ISG che costano di meno però insomma per quello che voleva lei è andata piuttosto bene small cap ha un ter più alto però ci sta tutti insistono per i voti segreti tutti insistono è difficile da implementare ragazzi da farlo in line come facciamo non fa intrattenimento poi ci mettiamo qui 3-4-3 minuti a scrivere a fissarci negli occhi o facciamo la pausa pipì ogni volta o metto la sigletta cosa cambia per la casa dopo 5 anni dopo 5 anni puoi puoi venderla e non perdi l'agevolazione di prima casa che è avuto sull'IVA imposta di registro non ricordo che è avuto sull'acquisto per cui in teoria deve restituire la differenza di non si chiama IVA si chiama imposta di registro e non solo tante altre cose belle ok come chi è questo guido io sono del piano romano allora vediamo dicevamo efficienza asset allocation si adesso a parte questo small cap tutto sommato anche l'IMU schizza poste catastali si è un po' esposta su una casa che è un po' come diceva qualcuno anche nella mia chat un bene un po' illiquido volendo però sta rendendo bene fino adesso la messa a reddito bene è un ottimo comunque un ottimo investimento ha un ottimo tasso fisso per cui io vi darei a mi pensare cash ok cash non vedo conti deposito o simile in questo periodo dovendo guardare puramente all'efficienza mi sarei aspettato qualcosa che ti rende qualcosina magari ce l'ha ma non l'ha scritto per cui di che quanto cash parliamo? 8300 che non è neanche dove si è scritto? ah eccolo qua ultima riga ok magari non l'ha voluto mettere perché l'ha copiata hard codato dalle sue espressioni sono più complessi dai è un ingegnere sicuramente simp 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 però sì nel complesso non gli posso dare meno di 9.1 c'è anche giova c'è giova 9.1 attenzione ragazzi qua c'è tipo la ola o allora saluti da Fiano Romano aderenza obiettivi tutto questo li ho dimenticati trasferirmi in Svizzera giusto? è vero trasferirmi in Svizzera è FI italiana effettivamente come qualcuno diceva se ti vuoi trasferire in Svizzera non compri casa da investimento in Italia perché ti ancora un po' al territorio un po' difficile da tenere sembra la voglia vendere però questo non è chiarissimo posso su casa intervenire io ho vissuto per ho venduto casa che avevo a Pioltello nel 2019 e dal 2012 al 19 ero residente in Svizzera il comune di Pioltello non accettava come primere cioè sei risito all'aere se sei iscritto all'aere quindi se vai solo all'estero non sei iscritto all'aere stai un po' citando il sistema ma dopo un po' li si beccano e paghi tasse in Italia soprattutto se sei iscritto all'aere il comune di Pioltello almeno ma molti comuni so che fanno così anche se tu hai solo una casa e la tua residenza italiana era in quella casa lì diventa altri fabbricati quindi non puoi avere i muri d'otto puoi tenerla puoi non venderla ed evitare penso alcune erogne di brusvalenze però penso che qualche aspetto di almeno gli aspetti fiscali sono brutti non so se devi anche pagare in effetti sono andato via prima di 5 anni di acquisto casa per cui no forse non sei costretto a restituire i benefici dell'acquisto di prima casa però però devi paghi più tasse scusa no niente sì quindi forse a questo punto di vista allora lei scrive vendere il bilocale affittato appena passano 5 anni dall'acquisto per non perdere le geopolazioni fiscali sulla prima casa no è un ottimo investimento ma cozza con i tuoi obiettivi quindi qui secondo me la casa pesa sarei più da 7 ok mamma mia ragazzi pronti 25-2 attenzione attenzione perché refrescio qua non c'è eccola è cresciato tutto è cresciato tutto classifica eccolo 25-2 si piazza al secondo posto secondo posto aspirante zurichese benvenuta sul podio se non c'è la seppia hai battuto Donald Duck che adesso è nell'ultimo gradino del podio congratulation 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 beh Donald Duck in terza non pensavo non pensavo che ha